Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo alcuni sondaggi su delle città che andranno al voto tra qualche giorno. Per quanto riguarda ad esempio la città di Torino, il centrodestra sarebbe avanti, invece a Trieste potrebbe spuntarla al primo turno, mentre il centrosinistra potrebbe restare in sella Milano e Bologna, con quest'ultima che non dovrebbe ricorrere al ballottaggio. I dati emergono dai sondaggi politici noto per porta a porta realizzati tra il 12 e il 15 settembre. A Torino Paolo da Milano ha due punti di vantaggio su Stefano Lorusso, 40-42% contro 38-42%. A Trieste il sindaco uscente di piazza ha un vantaggio di 16 punti su Francesco Russo, 48-52% contro 32-36%. A Milano Beppe Sala corre verso la rielezione con una forchetta che va dal 46 al 50%, mentre Luca Bernardo segue alla distanza 34,5-38,5%. A Bologna Matteo Lempore avrebbe preferenze stimate tra il 58% e il 62%. Grazie a tutti e buona giornata.